L'ennesimo attacco all'Occidente, alle nostre libertà, ormai il terrorismo islamico sta compiendo omicidi quotidiani. Dobbiamo reagire. Esistono delle responsabilità politiche dirette, e sto parlando dei vari governanti europei che passano dalla Merkel e arrivano a Renzi, che hanno permesso un'invasione incontrollata, non hanno controllato il territorio e hanno incentivato, non intervenendo, il dilagarsi del fondamentalismo islamico in Europa. Perfino l'Europol sottolinea come ci possano essere migliaia di terroristi islamici nel nostro continente. È arrivato il momento di reagire. Non pensino di lavarsi la coscienza, i vari Renzi, le varie Boldrini, con qualche marcia della pace, o negando che si tratta di fondamentalismo islamico, continueranno a raccontarci che sono dei pazzi, che sono dei depressi, perché li ha magari lasciato la moglie, ma io non ho mai visto dei cristiani lasciati dalla moglie che vanno in giro ad ammazzare urlando Cristo è grande. Purtroppo invece, urlando Allah Akbar, gli omicidi sono quotidiani. E allora controllo delle moschee, controllo delle comunità islamiche, blocco delle frontiere per restituire la sicurezza ai nostri cittadini.